E' il debutto ufficiale della Ternana nella Coppa Italia 2019-2020. Buonasera a tutti gli amici e alle amiche di Telecarineo. Da Lorenzo Pulcioni allo stadio Liberati di Terni, tra qualche istante. Ternana-Olbia, prima giornata del girone H di Coppa Italia. L'esordio, come detto, ufficiale della formazione rosso-verde di Fabio Gallo dopo le amichevoli estive. La partita è iniziata, la Ternana che gioca il primo pallone. Tra un attimo anche la formazione chiaramente dell'Olbia con Mammarella. Muroni agisce da playmaker in avanti per Dora Tiotto. Il colpo di testa, attenzione, pallone che sfiora il palo. Plan, Nesta, il cross di Nesta. Ternana che cerca molto le fasce laterali, un rimpallo, favorisce Ferrante. Poi il piattone e il gol! Il gol di Mattia Proietti. Ternana in vantaggio, il primo gol ufficiale della stagione dopo il pericolo passato. La Ternana si è come risvegliata e con il sinistro, bellissima conclusione di Proietti. Bravo anche Ferrante che ci ha creduto, ha rubato pari alla difesa e è appoggiato all'indietro per Proietti. Tiro immediato. Punizione per l'Olbia, lo batte Pizzalis, palla in area di rigore. Il colpo di testa di Lella, proprio Nunzio Lella. Mammarella caccerà Furlan con il destro, palla sul primo palo. La gira e non trova però la porta Alexis Ferrante. Non vorrei sbagliare Maurizio ma mi sembra che nell'Olbia ci sia in campo il numero 18 De Marcus in posizione di trequartista. Seguiamo Mammarella, il cross, il colpo di testa di Ferrante. 2 a 0, 2 a 0, bellissimo gol di Ferrante. Di testa sul cross di Carlo Mammarella. Il pezzo pregiato della ditta, se vogliamo usare questa espressione. Mammarella, sale Mammarella, ancora Furlan, finta, converge, cross di destro per Ferrante, carambola e il pallone per un attimo non entra in porta. Salvataggio, Salzano col sinistro a sventagliare, pallone precisissimo su Furlan. Cross di Furlan ancora per Ferrante, il colpo di testa, anzi era vantaggiato. Colpo di testa di vantaggiato, parata del portiere Van der Waant. ...della Ternana, che giocherà nel girone. Attenzione, defende in area l'appoggio di ero per Ferrante che prende il palo. Pennington sulla sua, Anesta lo elude, il cross con il destro, vantaggiato ma il gioco è fermo. Il gioco è fermo. Cross dentro, tocca Pennington per il tiro di Parigi che è terminato sopra la traversa. Un 6 e non Doradiotto. Allora il cross, vediamo proprio per il colpo di testa e il gol di Parigi. A Olbia che accorcia le distanze. Tatticamente, quindi, cambiato invece il risultato. Attenzione, ancora Parigi, in area di rigore, bravo. Nesta da dietro. Calcio di rigore che assolutamente non c'era. Questo sarà pure un arbitro esordiente, ma pure cartellino giallo per Nesta. Intervento pulitissimo sul pallone. e invece Ternana che è dal possibile 3-0 si ritrova sul possibile 2-2. Bevevecchetto è un 6, chiaramente. È gol, 2-2. L'Olbia pareggia. Al ventottesimo. Il gol del pareggio di Ogunzei e su un calcio di rigore, oserei dire, inesistente per un intervento di Nesta che è sembrato in presa diretta pulito sul pallone. Soprattutto sempre nel corso della ripresa. Calcio di punizione di Mammarella. Intanto scusa, mi mette fuori la difesa. Recupera Proietti in area. Paghera, spazio, Paghera, il tiro. La parata ancora di Van der Vant. Apertura sulla sinistra dove c'è Niosi. Il cross lungo di Niosi. Colpo di testa all'indietro c'è Furlan. Furlan, Furlan, punta l'avversario. Furlan in area al cross di Furlan. Colpo di testa di Niosi e miracolo del portiere. Che parola ha fatto questo. Colpo di testa di Niosi e miracolo incredibile di Van der Vant. Salsano. Il cross di Salsano nel colpo di testa di Ferrante. E stavolta alto sopra la traversa. Nesta in avanti. Niosi di petto. Paghera. Mammarella. Anzi Furlan. È Furlan che si è spostato. Penso un attimo al cross. Ecco la treva adesso. Mammarella. Sbucca Paghera. Il gol. Gol della Ternana. 3 a 2. 3 a 2 della Ternana. Gol della Ternana. 3 a 2. Protesta Van der Vant. Voleva un fuorigioco. L'arbitro lo azzitta. Va dal suo guardaline. Ma il gol è regolare. Perché l'assistente ha chiaramente fatto cenno di andare verso il centro del campo. Quindi è gol. Vabbè è l'ora di otto. Non succede niente. Triplice fischio finale. Termina qua. Ternana Olbia. 3 a 2. La Ternana vince. La sua prima partita ufficiale della stagione. Grazie al gol di Paghera nel finale. Che ha ristabilito un po' di giustizia. Perché la rimonta dell'Olbia. Era stata improvvisa. E soprattutto viziata da quel calcio di rigore. Che è quantomeno discutibile. Comunque l'importante è che la Ternana abbia vinto. Abbiamo visto una partita che va a prendersi gli applausi sotto la curva nord. Esordio ufficiale con vittoria quindi per la Ternana in Coppa Italia. 3 a 2 sull'Olbia. Io ringrazio Alberto Francioli che ha curato le riprese. Maurizio Moriconi ovviamente per il supporto in telecronaca. Ringrazio tutti voi che ci avete seguito. Perdonateci gli errori di formazione dell'Olbia. Tra poco per invece le interviste dagli spogliatori. E' un grande ruggiero. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.